A seguito dell'installazione del certificato SSL-DV sul proprio dominio, puoi abilitare l'opzione di reindirizzamento del traffico di tipo HTTP su HTTPS tramite un Redirect 301, direttamente dal pannello di gestione di SuperSite 10. Questo ti permetterà un accesso sicuro al tuo sito, evitando che gli utenti possano rilevare il sito come non sicuro e potenzialmente malevolo. Per procedere, accedi a SuperSite 10 e clicca sulla prima icona del menu superiore, poi su Impostazioni sito, seleziona Sicurezza, abilita l'opzione Reindirizza su HTTPS ed infine clicca Salva in alto a destra per confermare le modifiche. Affinché il reindirizzamento sia effettivo, è necessario che il certificato SSL sia attivo sul dominio in questione. Grazie 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 Grazie